buongiorno buongiorno a voi perché insistiamo sul discorso di dichiarare la parola di dio di confessare la parola di dio intanto la bibbia è scritta per essere proclamata per cui la nostra voce è l'indirizzo è l'indirizzo nel regno spirituale la nostra voce è il nostro indirizzo nel regno spirituale quindi questo è molto importante noi ha il proprio indirizzo di casa sua via tal dei tali via così via colà la nostra voce quello che diciamo è il nostro indirizzo nel regno spirituale dove dio ti manderà la sua roba le sue benedizioni la sua prosperità e dove eventualmente se non stiamo attenti alla nostra linguaccia il diavolo può fare anche dei danni perché proverbi 18 21 dice morte e vita in potere della lingua proverbi 6 proverbi 6 12 siamo legati a motivo delle nostre parole quello che diciamo la prima cosa una delle prime cose che un medico fa quando ti visita per vedere se stai bene o se stai male ti dice esci la lingua vediamo cosa c'è nella tua lingua quindi nel mondo spirituale non è che cambia tanto diceva che ne teghen mio padre spirituale mentore diceva se non ti piace se non ti piace quello che stai vivendo controlla quello che stai dicendo perché quello che dici ti controlla morte ma anche vita e in potere la lingua di giacomo dice che c'è un piccolo membro come un piccolo timone dice guida una grande nave così un piccolo membro come la lingua guida la nostra vita e può infiammare il tutto il processo della nostra vita la nostra lingua può infiammare il nostro lunedì il nostro martedì il nostro mercoledì il nostro gennaio febbraio marzo aprile maggio quello che può infiammare il corso della vita dice giacomo per cui stiamo attenti a quello a quello che esce dalla nostra bocca davide l'aveva capito diceva signore metti una sentinella all'uscio delle mie labbra per cui la nostra voce è il nostro indirizzo nel regno spirituale dove ci ascolta dio dove ci ascolta satan dove ascoltano i demoni ecco perché dice romani 19 10 col cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza 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 sorteria nel greco significa anche guarigione liberazione per ottenere con la bocca si fa confessione per ottenere omologheo confessione dire la stessa cosa che ha detto dio dici la stessa cosa che ha detto dio e verrà dio dici la stessa cosa che dice il diavolo e verrai diavolo con tutti i suoi demoni e i suoi compari la fede viene rilasciata proprio nel momento in cui noi parliamo la fede viene rilasciata proprio nel momento in cui noi parliamo dice la Bibbia io ho creduto perciò ho parlato anche noi dice Paolo crediamo e perciò parliamo riferendosi ai campioni dell'Antico Testamento che hanno parlato per fede come Davide io oggi ti taglierò la testa darai il tuo corpo in preda come cibo agli uccelli del cielo ti taglierò la testa e non aveva una spada Davide aveva una fionda ma nel suo immaginario vedeva Giagolia sconfitto gloria a Dio per cui ricordati che la tua voce è il tuo indirizzo nel regno spirituale quando parli hai un indirizzo dove Dio manda le sue benedizioni o dove eventualmente il nemico manderà le sue maledizioni la tua voce è un indirizzo quando dai un indirizzo a qualcuno riceverai qualcosa dicevai la posta dai l'indirizzo per ricevere qualcosa parli perché stai dando l'indirizzo nel mondo spirituale di ricevere qualcosa la fede viene rilasciata proprio nel momento in cui noi parliamo bene detto questo Dio ti benedica spero che questo mio pensiero stamattina possa aiutarti e che Dio ti benedica